Per trascorrere una serata piacevole, divertente, in compagnia di tuoi amici con tanti piatti sfiziosi non puoi non scegliere il ristorante e pizzeria Caminito per cresime, battesimi e ricorrenze varie. Il Caminito ti delizierà con specialità a base di carne o pesce e se ami la buona pizza potrai gustare stuzzicanti pizze cotte nel forno a legna. Al Caminito la sera è puro divertimento, potrai cantare col nostro karaoke e scatenarti nella sala da ballo interna ed esterna al ritmo di musica house latinoamericana, bali di gruppo e liscio. Per prenotazioni chiama il numero 339 88 17 918 o il 339 21 94 563. Ti aspettiamo a Ispica in Via della Malva 2. E se hai un leggero laguorino, a Rosolini il Bar Sacro Cuore stuzzica il tuo appetito con gustosissimi arancini, un'ottima tavola calda, freschi gelati, una pasticceria artigianale di alta qualità e tanti aperitivi. Puoi prenotare anche per banchetti ed eventi vari allo 0931 85 76 10. Ci trovi in Via Carducci 9 a Rosolini.